Eccoci nella torre di guardia ragazzi, sono Gabriel Osta, in questo Injustice Go Among Us faremo la missione Star Lab con Killer Frost, la donna di ghiaccio. La stanza si sta riscaldando rapidamente e infligge danni a Killer Frost. Bisogna attivare l'interruttore e disperdere il calore, così da prevenire una fusione. E il nostro avversario che stiamo affrontando è un supereroe robotico, Cyborg. Quando siete vicini all'interruttore premete il tasto R1. E ricordatevi che Victor Stone si fa chiamare Cyborg con la C maiuscola. Avete visto me lancia i pugnali di ghiaccio Killer Frost? Ecco, guardate tutti insieme a me spettacolare sta super mossa di Killer Frost. Alle spine di ghiaccio. Abbiamo finito, se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. La nostra donna di ghiaccio Killer Frost è la vincitrice. Ha vinto questa sfida e ha completato questa missione. E' tutto, vi saluto. Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, come è sempre. Parola di Gabriel Osta. Io vi devo salutare. Grazie per avermi seguito. Grazie per avermi seguito. Grazie per avermi seguito. Grazie per avermi seguito.